Il T-Wallet è un passo in avanti nella gestione dell'identità digitale e nell'accesso ai servizi pubblici per gli italiani. A partire dal 23 ottobre i primi 50.000 italiani avranno a disposizione all'interno dell'appio la possibilità di avere la sezione portafoglio all'interno della quale sarà possibile caricare i primi tre documenti, la patente, la tessera sanitaria e la carta europea delle disabilità. Il sistema T-Wallet inizierà con i primi 50.000 italiani il 23 ottobre e ci saranno quattro gate di rilascio, l'ultimo dei quali sarà il 4 dicembre. Quindi il 4 dicembre tutti gli italiani avranno a disposizione all'interno dell'appio la sezione portafoglio con i tre documenti di cui abbiamo parlato. Il sistema T-Wallet poi andrà a regime nel corso del 2025, quindi con un anno di anticipo rispetto alle previsioni europee per il portafoglio europeo, ossia il 2026. L'IT-Wallet sicuramente porterà significativi vantaggi per gli italiani, innanzitutto per l'accesso sicuro e veloce ai pubblici servizi, la possibilità di avere a disposizione i documenti senza dover avere necessariamente nella tasca il portafoglio e ovviamente IT-Wallet non è obbligatorio, però utilizzarlo sicuramente può facilitare l'accesso ai pubblici servizi. Uno dei vantaggi di IT-Wallet ovviamente è quello di avere a disposizione dei documenti che hanno piena validità, quindi uno dei primi documenti disponibili sarà la patente di guida e in questo caso noi potremmo utilizzare direttamente la patente all'interno dell'appio, all'interno della sezione portafoglio dell'appio, per effettuare il controllo da parte delle forze dell'ordine. La patente che abbiamo all'interno del wallet è pienamente valida dal punto di vista del controllo da parte delle forze dell'ordine. A differenza delle foto che possiamo avere in PDF e che ognuno di noi a volte si porta dietro sperando che in caso di controllo possano servirgli invece del documento cartaceo, ecco, quelle non sono valide dal punto di vista legale, mentre quello che abbiamo all'interno del wallet lo è.